Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fermati, fermati qui, fermati. Perfetto. Quando è sul 2? Sull'1? Sull'1, sì, sull'1 vai. Dov'è la fotogelula? È lì al gambino, vedi quello di d'acciaio lì? Allora, buonasera a tutti. Siamo ancora qui. Ah no? Dentro il ciocco, 30 secondi. Hai missili? Il freno a mano? Eh, vai a boiati. Prima a sinistra 2, eh? 15 secondi. Vai puta, eh? Dai coraggio, eh? Sinistra 2, eh? Aspetta, aspetta. Vai vai. Sinistra 2. Intornante destro leva. Apre. Per tornante sinistro. Stai largo. 50. Tornante destro leva. E accenno sinistro. Vabbè, perfetto. Tornante sinistro decigni. Destra 4, diventa 2. Attenzione scolletta. In sinistra 2 sconnessa. Sinistra 4. In destra 4. E al muro. Destra 2 leva. Per sinistra 4 taglia. In destra 4 lunga. In accenno sinistro. Diventa tornante sinistro leva. Ah vai. Compagnala bene. 50. Gas vai. Si vai così. Sinistra 4. 50. 50. Vai. Destra 2. Per destra 3. 50. Accenno destro. In accenno sinistro. Cosso per sinistra 2. 50. Sinistra 4. In destra 4. In sinistra 4 piena. Spara, spara. E accenno destro. E accenno sinistro. 50. Inversione sinistro leva. Destra 3. Leva leggera. Niente. In accenno sinistro. Per destra 3 leva. Vai vai. Oh, oh, oh. Perfetto. Vai. 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 Buongiorno. Si può stare magari un pochino più vicino al cartello. Bravissimo. C'è quell'acqua fresca che mi rifà la bocca, lo sai? Questo sarà il vino caldo allora. Vai vai. Sta più larghino qua. Bravo eh. Sempre un pochino prima almeno dietro. Boh. Vieni appena indietro. Fai finta. Vieni appena. Oh, e mi si appanda il vetro qui. Che storia è? Guardate, accendi la panzola. Vabbè, accendi tutto qui. Oh, qui si appanda tutto. E accendi la ventola lì. E cosa accendi? C'è l'acqua da ventola lì. Così, tanto. Trenta. Ti devi fare una mano? Sì, sì, tranquillo. Sinistra 4 per tornante destro sale. Semaforo. Aspetta, eh. Vai vai. Sinistra 4. Per tornante destro sale. In sinistra 3 veloce. Per destra 4 piena. Sinistra 4 piena. E al bidone. Destra 4. E al rai. Sinistra 4 apre. Per accenno sinistro lungo. Per destra 2 gira. Per tornante sinistro. In sinistra 4. In accenno destro. Per sinistra 4 piena. In destra 4 piena. E per accenno sinistro. Stai largo. Diventa sinistra 2. Tornante destro 50 Destra 4, occhio al cordolo In sinistra 4 In destra 4 Per destra 4 piena Per tornante destro In tornante sinistro Perfetto, 50 Perfetto Accenno destro In sinistra 3 veloce 50 Ritarda Tornante destro 50 Destra 4 Vai ancora In destra 3 veloce Per sinistra 3 veloce Per sinistra 3 veloce Per destra 4 Per sinistra 4 piena Stacca subito Per tornante sinistra In destra 4 piena lunga Per destra 4 piena Per destra 4 piena Per destra 4 piena E orrai stacca per tornante destro Tornante sinistro 50 E al garage E al garage sinistra 4 piena taglia Per sinistra 3 gira poco In destra 4 piena Apri l'accenno E al rail sinistra 3 gira In destra 4 piena In destra 4 piena In destra 4 piena gira In accenno sinistro In accenno sinistro Per sinistra 4 pieno In destra 3 veloce In sinistra 4 lunga In destra 4 piena In destra 4 piena Vai accenno destro lungo Per tornante destro 100 Per accenno sinistro Vai ancora Per tornante sinistro 50 E alla casa Sinistra 4 piena Per destra 4 piena Vai a rosso Destra 4 piena Vai a rosso Vai 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 Non hai paura Vai tu vai A rosso sinistra 4 In destra 4 piena Per accenno destro sinistro Accenno destro sinistro In destra 4 piena